Se qualcuno si presta a fungere da medium di uno spirito disincarnato e consente che esso penetri in lui, come nel caso del medium in trance, lo spirito può servirsi liberamente del corpo che gli si affida. In qualche caso il male è in genere di lieve entità, a condizione che lo spirito non abusi del privilegio avuto. Capita infatti che alcuni spiriti trattino i veicoli presi a prestito con maggior riguardo dei loro veri proprietari, cosicché quando rientrano in possesso del proprio corpo, i medium constatano che la loro salute è migliorata. Però questi casi sono rari. Gli spiriti di indole elevata non cercano di esprimersi tramite un medium. Sono piuttosto gli spiriti ancora attaccati alla terra, spiriti inferiori, avidi di gustare ancora i piaceri che la vita terrena aveva offerto loro, che tentano di introdursi nelle persone aventi delle tendenze medianiche. Una volta preso possesso del corpo desiderato, se ne servono per soddisfare le loro passioni di lussuria o di alcolismo, quindi causano dei disordini nell'organismo di cui dispongono. Nel caso di medium di materializzazione possiamo affermare che la loro influenza è sempre nefasta. Lo spirito che si materializza agisce soggiogando la sua vittima per sottrarle tutto l'etere possibile dal corpo vitale. Si distingue un medium di materializzazione da una persona comune dal fatto che il legame fra il corpo vitale e quello denso del primo è eccessivamente allentato in modo da rendere possibile l'estrazione di quasi tutto l'etere del corpo vitale. Ora, è precisamente questo corpo che assorbe i raggi solari dai quali dipende la nostra vitalità. Privato di questo apporto vivificante, il corpo del medium al momento della materializzazione talvolta si contrae fino ad occupare la metà del suo volume iniziale. La sua carne diventa flaccida e la sua vitalità sembra scomparire. Alla fine della seduta il medium riprende coscienza in quanto il suo corpo vitale riprende la posizione normale, però si sente spossato, per cui ricorre spesso allo stimolo alcolico per rigenerare la forza vitale che si è esaurita. Evidentemente la sua salute ne risente e nel giro di poco tempo il medium diventa l'ombra di se stesso. Quindi è opportuno evitare di praticare la medianità, poiché oltre ai pericoli che abbiamo esposti, altri che interessano i veicoli più sottili del medium sono da temere, soprattutto nel periodo che accompagna e segue immediatamente la morte.